Vesux Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesux Concept Food è braceria, pizzeria, burgheria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesux Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesux Concept Food, Casoria. La primavera del Napoli dopo il successo di Torino batte anche il Lecce tra le muramiche e in attesa dei risultati delle altre vola al secondo posto in classifica alle spalle della Roma. Gli azzurrini portano a casa la vittoria in una gara seguita da Marco Domenichini, il vice di Spalletti. È un segnale dell'attenzione della prima squadra per il percorso della primavera. Al nono minuto lancio di barba dalle retrovie per l'attacco alla profondità di Mercurio. La difesa del Lecce interviene e l'attaccante azzurro non riesce ad andare al tiro in maniera pulita. Al ventiduesimo il Lecce risponde con una punizione alla lunga distanza di Saloma. Idasiak segue la traiettoria che si spegne sul fondo. Al trentanovesimo Cioffi si rende protagonista nella zona sinistra dell'attacco. Punta l'avversario e va al tiro che viene contratto dalla difesa del Lecce. I Salentini poi hanno la prima grande occasione della partita. Nizet ispira dalla sinistra, cross al centro, girata al volo di Bach. Parata straordinaria di Idasiak che poi fa suo il pallone in due tempi. Il Napoli trova il gol del vantaggio al quarantasettesimo nell'ultima azione del primo tempo. Cioffi salta l'avversario e va al cross dalla sinistra. Barba realizza un tiro alla distanza che trova la deviazione vincente di D'Agostino con il pallone che si insacca nell'angolino. Il Lecce inizia la ripresa in maniera determinata e provvidenziale il salvataggio di Colisaco che strappa in area di rigore il pallone dai piedi di Bach. Poi Didona allontana la minaccia dopo una serie di rimpalli. Al cinquantatresimo Vulturar prova a beffare Idasiak sul suo palo. Il portiere polacco si allunga e blocca la sfera sul tentativo del centrocampista del Lecce. Al sessantaduesimo risponde il Napoli con una grande giocata di Cioffi che va al tiro di destro dalla distanza. Borbei si supera e spedisce il pallone in calcio d'angolo. Al sessantaquattresimo Idasiak è ancora protagonista. Lemmens su calcio d'angolo stacca in area di rigore. Il portiere polacco prende anche questa, tocca il pallone sulla traversa. Le due squadre si giocano le risorse a disposizione in panchina. Il Lecce manda in campo oltre Marini e passa al 4-3-3. Frustalupi butta nella partita De Marco e Vergara per aumentare la freschezza nelle file azzurre. Al settantaquattresimo Vulturar ci prova dalla distanza. Il pallone termina di poco a lato. Idasiak era sulla traiettoria. Al settantasettesimo Burnete di testa impegna Idasiak che in due tempi allontana ancora una volta l'assalto del Lecce. La partita è combattuta, i nervi sono tesi e l'arbitro Centi espelle per proteste Grieco, l'allenatore dell'Armavera del Lecce. Al novantatresimo l'ultimo tiro è di Bach che deve inchinarsi ancora ad Idasiak che fa su alla sfera in due tempi. Il finale è molto teso. Ci sono degli accenni di rissa che vengono sventati tempestivamente dall'intervento delle due panchine. Napoli-Lecce finisce 1-0. Possono festeggiare gli azzurrini che si godono il secondo posto in classifica ma soprattutto il più 11 sulle zone pericolose in chiave salvezza ad una settimana da un'altra gara complicata in casa contro l'Inter.